X-Factor La dichiarazione della voce degli After Hours fa scalpore, ma Manuel non intende voltarsi indietro. Dopo l'addio di Fedez, un altro giudice che ha lasciato il segno nel programma di Sky annuncia il suo ritiro dal talent. Addio pensato da tempo non si tratta di una decisione presa di pancia. Manuel Agnelli ha ribadito a una sbigottita Daniela Collu, conduttrice del fuori programma Strafactor, che la scelta di salutare il programma è stata dettata da una lunga riflessione. Sul web circolano già le possibili motivazioni che abbiano spinto il cantante a lasciare il talent. Secondo Leggo, Manuel Agnelli potrebbe aver sancito la definitiva rottura all'annuncio dell'eliminazione di Martina Attili e del ballottaggio di Luna.I motivi del ritiro di certo, il primo ad aprire la possibilità di tornare alla propria musica resta Fedez. Dopo che i media hanno parlato di lui più dei suoi scorci di vita privata che di musica, il rapper ha deciso di voler tornare a far parlare di sé anche grazie alla sua musica.Lo stand-by dovuto alla partecipazione al programma in veste di giudice gli ha tolto molto tempo, che non è stato buttato via, ma di certo ha convinto il cantante a tornare a fare musica. Il suo primo amore.altro scossone che potrebbe aver convinto Agnelli potrebbe essere stato l'isolamento da parte dei media, in particolar modo dei responsabili del talent, nei confronti di Asia Argent, al momento dello scoppio dello scandalo di Jimmy Bennett. In quell'occasione, Manuel Agnelli si è ritagliato uno spazio in conferenza stampa per criticare la scelta di X Factor di allontanare l'argento dalla giuria.